Bella, ma che bella! Eh, che bella, eh! Che bella! No, ma non te, quella canzone è bella! Ma è quella canzone? Astronave di Sergio Caputo! Erano dei favolosi anni Ottanta! Quando pensavamo che il futuro fosse un'astronave che ci avrebbe portato chissà dove, no? E intanto però le gambe erano considerate ancora un mezzo di trasporto. Cioè, te ci potevi spostare da qua, là! Cioè, da qua, là! Che bello, vero, vero! Ma vogliamo fare una cosa tipica degli anni Ottanta, insieme? Ma magari, ma facciamo, facciamo qualcosa degli anni Ottanta, che facciamo? Ecco, allora spostatevi da qua, là! Andatevene, andatevene! Ma c'è il caldocio che è questo? Ma chi la ha fatto in casa? Perché invece oggi non è più così, perché oggi tu vai in un posto con la macchina, se non trovi il posto vicino al posto, ti cominciai a incazzare, perché per te è inconcepibile andare a cercare il posto in un posto che magari poi devi camminare 8 minuti a piedi, ma dai, no! Cioè, preferisci continuare a fare il giro del palazzo, mezz'ora a bestemmie, perché la benzina costa troppo, piuttosto che andate a fare 8 minuti di camminata, anche se poi 8 minuti sarebbero anche meno di mezz'ora. Addirittura, chi va in palestra, vorrebbe trovare posto davanti alla palestra. E poi andate a fare 40 minuti di tapirulan, è assurdo! Ma io penso, sul tapirulan cammini, ma non ti sposti! Cioè, non usi le gambe per spostarti, ma per fare attività fisica è diverso! Negli anni 80 un'altra cosa strana era che sugli autobus c'erano ancora gli italiani! È incredibile! Oggi, infatti, c'era il cartello, non parlare al conducente, perché potevi distrarle, al fericoso c'è una responsabilità, io devo chiedere, no, fitto, zitto che sta guidando! Oggi quel cartello non c'è più, ma in qualsiasi lingua tu chiedi un'informazione, oh, ma non vedi che sto a mandare un massaggio, ma porca, un po' di rispetto! Negli anni 80 non si usava la X e la K, perché non facevano parte dell'alfabeto nostro, neanche oggi. Però la K oggi si usa, al posto del C-A, che a volte anche al posto della C, che capirei per dire cucina con la K, perché non ho mai visto una cucina senza K. Ma la X, la X al posto del perno, dai! Pensate che c'è il figlio di un mio amico, che per i 150 anni di Unità d'Italia sta studiando il Risorgimento, mi ha detto, oh, ho scoperto dei passaggi fichissimi, ma ciao, mi fa piacere, tipo chi? Un certo Nino Biperio, faccio, ma che cazzo è Nino Biperio? Dice, è scritto Biperio, ma se legge Bixio, quella è una X, non è Emper! E per mandare il messaggio, per scrivere perché, il giovane oggi, nell'SMS, mi scrive XKE, che lui ce le mette un attimo, io non ho capito che cazzo porti qua la cosa, no? Io penso che dagli anni 60 e poi abbiamo sbagliato quasi tutto. Pensate chi nel 68 andava via da casa a 20 anni perché credeva nella libertà e combatteva per la propria indipendenza? Oggi c'ha i figli di 40 anni ancora a casa sua! Questi figli cresciuti che ha musica rock, quei capelli lunghi, con la fruit of the loom bianca e sigarette morta da una manica, paesi più americani, è come gli americani volevano un mondo più giusto e l'avrebbero ottenuto perché occupavano scuole, occupavano fabbriche, e ora occupano il divano per guardarsi il grande fratello, gente che andava in moto senza casco, coi capelli al vento, tipo Easy Rider, per assaporare appunto il gusto della libertà. E oggi stanno incastrati in macchina a mezzo al traffico, con l'aria condizionata, senza capelli e ci hanno figli di 15 anni che pensano che Freddie Mercoli è stato l'inventore del termometro, ma come cacchia è possibile? Io non ci riesco a capire questa cosa!